Siamo qui nella chiesa di Sant'Ambrogio di Legnano, dove l'Accademia di Brera, in collaborazione con la Fondazione Gatta Trinchieri, si stanno occupando della ristrutturazione delle due colonne principali della chiesa, quella di San Biagio e di Sant'Ilario. Andiamo a vedere insieme le colonne. Questa è la colonna Come Era e adesso abbiamo la possibilità di avere un piccolo scorcio e scoprire come diventerà. Vi facciamo vedere l'affresco che invece è stato terminato nell'aprile 2019, una piccola parte di questo affresco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.